Si muovono diversi precari della ASD1 che lavorano nelle cooperative sociali con una raccolta firme con lo stato di agitazione. Rischiano di perdere il posto di lavoro con lo sblocco del concorso pubblico per assistenti amministrativi, al cui bando sono state ammesse con riserva 7.500 persone. Azioni decise nel corso di una riunione recente tra il segretario provinciale Fesica Confsal dell'Aquila Marcello Vivarelli, il neodelegato Fesica per gli amministrativi di cooperativa sociale Fabio Giurina e alcuni precari. Il presidio con la raccolta firme inizierà nei prossimi giorni e sarà allestito all'esterno dell'ufficio informazione dell'ospedale regionale Coquilano. Il sindacato chiede da anni l'internalizzazione fondamentale per centinaia di lavoratori e per le famiglie. Chiedono alla politica, sia locale che regionale, un intervento deciso. Si tratta di lavoratori che hanno acquisito una certa professionalità e che hanno tenuto in piedi soprattutto molti servizi essenziali per l'azienda durante il Covid. Parliamo della provincia dell'Aquila, quindi parliamo dell'Asle 1 o parliamo di più di un centinaio di lavoratori, perché se parliamo di servizi tutti, quindi dobbiamo comprendere anche imprese di pulizie, la mensa, portierate e quant'altro. È un problema che riguarda però non solo l'Aquila questo? Questo è un problema che riguarda tutta la regione, quindi tutte e quattro le Asle hanno chi più e chi meno, perché magari Teramo, da quello che io sono venuto a conoscenza, ha meno lavoratori esternalizzati. Il problema si vive a Chiedi, ho dieci psicoterapeute che oggi stanno vivendo questa battaglia sulla propria pelle e stanno a casa. Quindi diciamo che il problema è regionale, non è solo dell'Asle 1, l'Aquila, Avezzano o Sulmona. Ecco, voi questa battaglia dell'internalizzazione la state portando avanti da anni, dobbiamo dirlo. Ora alla politica, che non è solo locale ma anche regionale, che cosa chiedete a questo punto? Chiediamo, aspettiamo ancora, perché da quando io ho iniziato questa battaglia, quindi quattro anni fa, la politica si era impegnata a trovare una soluzione. A tutt'oggi non abbiamo avuto nessun riscontro e l'ultima Assemblea pubblica si è visto. Io quello che chiedo alla politica regionale, chiedo alla politica anche locale, di fare pressione anche sulla nazionale, la politica nazionale è quella di non usare queste forme di precariato, quindi questa lotta di lavoratori e lavoratrici, come spot elettorali, questo io chiedo. Poi vogliamo l'appoggio vero e reale della politica perché ci sono le soluzioni e la politica lo può fare. Quindi diciamoci la verità e poi ognuno percorre le proprie strade.